Passare dalla console seduti comodamente sul divano di casa alla guida di una gran turismo sul circuito di Silverstone non è cosa da tutti i giorni. Per qualcuno è il sogno che diventa realtà. È quello che può succedere con Nissan GT Academy, dalle corse virtuali a quelle reali. Oltre un milione di concorrenti in tutto il mondo, di cui 831.000 solo in Europa, si sono sfidati nelle qualificazioni online e negli eventi live. Sono sei i finalisti italiani che andranno a Silverstone per il Race Camp, un duro programma di addestramento in cui dovranno competere contro rivali agguerriti provenienti da tutto il mondo. Dopo essere stati sottoposti a dure prove fisiche, di comunicazione, simulazioni ed una prova di guida su un percorso di handling a bordo di una 370Z Coupé, sul volto di questi ragazzi traspare una sola cosa, determinazione. La posta in gioco è alta, per il migliore una carriera nelle competizioni ed un biglietto per la 24 ore di Dubai. Non un semplice premio, ma il coronamento del sogno per qualunque appassionato di motori, una carriera da pilota. solo uno verrà ammesso al programma di sviluppo giovani piloti, grazie al quale otterrà la licenza internazionale che gli aprirà le porte della 24 ore di Dubai e magari arrivare fino alle 24 ore di Le Mans.